Il Montevarchi è costretto a rinviare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. Poche l'emozione e un pareggio che non risolve i problemi della formazione valdernese destinata a disputare un campionato di grande sofferenza. Eppure la partita con la Vispesatro aveva delle premesse ben più solide. Gli uomini di Roberto Malotti infatti non sono riusciti a battere la formazione marchigiana dividendo la posta davanti al proprio pubblico. 0-0 al termine di una partita che ha regalato poche emozioni. La palla gol più nitida infatti per i padroni di casa è arrivata a un quarto d'ora dalla fine con un colpo di testa di Giordani che è stato sventato dall'estremo difensore ospite salvando il risultato. Un pareggio che serve a poco sia al Montevarchi che alla stessa Vispesaro che naviga in acque poco tranquille e solo grazie al pareggio dell'Olbia con il Sandonato i Rosso-Blu da questa sera non sono all'ultimo posto in classifica generale. Purtroppo c'è da segnalare il gravissimo infortunio a Barranca. Il giocatore siciliano si è fatto male nel finale e per lui si teme che la stagione sia finita.